Che la data d'inizio dei saldi estivi sia unica. E' questa la richiesta delle associazioni di categoria, inoltrata all'assessore al commercio del comune di Pescara, Alfredo Cremonese, durante il tavolo tecnico che si è riunito questa mattina. La data nazionale, fissata per il 3 luglio, potrebbe infatti slittare per consentire ai commercianti di recuperare il tempo perso durante le lunghe chiusure causate dal covid sulla scia di quanto stabilito dalla regione Puglia, che ha posticipato al 24 luglio l'avvio dei saldi. Per sostenere la ripresa del commercio, duramente provato dalla pandemia, lo slittamento di qualche giorno degli sconti potrebbe anche essere utile, ma solo in caso di un'omogeneità di regole su base nazionale, onde evitare fughe di acquirenti e condanni da concorrenza limitrofa extraregionale, che altrimenti sarebbero un ulteriore colpo di grazie all'economia del commercio locale, che sconta anche la concorrenza dell'online. Al nostro microfono Gianni Tauci, direttore di Confesarcenti Pescara, e Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara, spiegano le ragioni della loro richiesta. Avevamo già grandi dubbi sul saldo all'inizio del mese, come li abbiamo avuti sempre nell'arco di questi anni, perché noi pensiamo che il saldo sia un saldo di fine stagione e debba essere affrontato nella fine luglio, ma soprattutto nel mese di agosto. Il saldo del 3 è stato pattuito a livello regionale, anche in accordo con la conferenza Stato-Regioni. L'assessore oggi ci ha chiamato per chiedere se siamo disponibili a rivedere la data e noi diciamo comunque sì, a condizione che questa data sia una data di carattere nazionale. C'è un altro dubbio che se la data nazionale non cambia, comunque il 3, il saldo online partirà, danneggiando quelle regioni che andranno a posticipare il saldo. Se si fa una riunione due mesi fa e si decide al tavolo regionale che la data dei saldi è il 3, adesso parte un'iniziativa di posticipare l'apertura dei saldi. Non è che si può ragionare su una nicchia di territorio. E poi, visto che il 3 è a livello nazionale, potrebbe sembrare un po' un problema, se noi in Abruzzo lo posticipiamo al 24, poi a San Bletto del Trondo ci stanno i saldi, oppure nel Molise ci stanno i saldi. Ci può stare pure qualcuno che fa gli acquisti a Roma. La Puglia ha già deciso che partirà dal 24 però. La Puglia ha 10 milioni di turisti e ha 400-500 metri lineari di regione che non danno la stessa possibilità al consumatore abruzzese di andare a fare l'acquisto in una regione limitrofe. Quindi se l'Abruzzo dovesse partire con una data differenziata rispetto a Marche, Lazio e Molise, si potrebbe creare il danno che il consumatore approfittando di una giornata bella e vada a fare shopping nelle regioni limitrofe. Forse se noi parchiamo il 3, diversi cittadini pugliesi, specialmente foggiani, che conoscono la nostra città, possiamo approfittare di avere una fetta di quella utenza.